Che cosa vuoi fare? Dimmi che cosa vuoi! Te l'ho già detto! Prima proveremo a prendere questo ragazzo e dopo scopriremo chi l'ha assoltato. Ha avuto un impatto molto forte in tre punti. Per questo motivo è morto. Per te Conn è solo... Conn è solo un elefante. Ma per me lui è come un fratello minore. Dormiva con lui tuo padre? Valcom! Deve essere feroce come un leone e forte come un elefante. Anche se purtroppo dopo oggi sparirà per sempre. Quindi la restituzione di Conn era soltanto un inganno! Tu e il tuo merdoso elefante siete diventati come una trave nel culo. Grazie per la visione!